Ragazzi un saluto dal vostro amato, amatissimo Bianconero, questa altra semifinale d'andata di UEFA Champions League termina con la vittoria dell'Inter 2-0 al San Siro contro i Milan di Pioli, di Stefano Pioli, povero Pioli, primo tempo caro Pioli sei stato succlassato da un Inter eccezionale, secondo tempo tutto il contrario, è stato Pioli che ha massacrato l'Inter di Inzaghi, però dai, complimenti alle entrambe squadre, una delle due squadre quindi fra Inter e Milan andrà dopo 4-5 anni in finale di UEFA Champions League, l'ultima volta andò in finale la Juventus contro i Real Madrid per 6-4-1, non parliamo più, però 2017-2023, ragazzi sei anni, dopo sei anni torno un italiano in finale, qualcosa di bellissimo comunque, a parte gli scherzi, dopo 12 minuti di partita l'Inter subito in vantaggio con due gol bellissimi già con i Kitajan, Canoglu, Barella, tutti gli altri giocatori pazzeschi, 2-0 meritatissimo, secondo me merita anche qualcosina in più l'Inter nel primo tempo, però lasciamo stare, secondo tempo in Milan fa la partita, molto sfortunata, molto sfortunato in Milan a gestire il possesso sfera, perché l'Inter ha avuto poco occasioni, Milan tante azioni, tanti contopiedi per poi non riuscire a ricavare nessun gol, a me dispiace parecchio perché una squadra come in Milan secondo me può meritare di più in una partita come questa, ma la pare tonda e al ritorno potrà succedere di tutto, mi raccomando non mancate, viva gli italiani UEFA Champions League, ragazzi domani Juve Siviglia, Europa League non ne parliamo, come va va, ciao a tutti